Ma noi sapevamo purtroppo che inconsciamente i ragazzi che avevamo vinto 5-0 all'andata e si è visto, anche se io ho cercato di tirar fuori la sana voglia di fare qualcosa di diverso. Siamo entrati in campo male perché abbiamo concesso due o tre palle gol subito, gli altri invece erano arrabbiati perché come vi avevo detto non meritavano in generale di perdere 5-0. Questa è una squadra molto più forte di quella che è sembrata all'andata, dove come si è detto abbiamo azzeccato tutto e ci è andato bene tutto. Però questa esperienza, questa partita di oggi, visto che ora si può dire, il risultato era abbastanza prevedibile che passassimo il turno, ci deve far riflettere. Perché quando le cose non si fanno con la massima carica nervosa, con l'adrenalina giusta, si può rischiare di fare delle figure totalmente diverse di quelle che abbiamo fatto fino ad ora. Quindi questa partita ci deve servire per questo, va bene così, alla ripresa sulle scelte loro ragazzi a fargli notare certi aspetti.